Il collega Giorgetti non solo è sempre sensibile a interventi di questo tipo, ma tutte le azioni che abbiamo coordinato insieme ci hanno visto da una parte cercare di capire dove risparmiare, dove tagliare gli sprechi e dove invece non si può tagliare quindi il sostegno a chi deve avere la possibilità o di assistenza o di incentivo a produrre perché per quello che riguarda l'impostazione che abbiamo come governo l'assistenzialismo diffuso ed equanime tra chi non può lavorare e chi può lavorare è semplicemente scorretto, chi non può lavorare va aiutato, chi può lavorare deve essere inserito in un quadro occupazionale che gli dia la possibilità di fare quello che tendenzialmente ogni buon cittadino deve fare e che è anche nei prodromi delle relazioni all'articolo 1 della nostra Costituzione. Quando si parla di diritto al lavoro si parla anche del diritto e del dovere di ogni cittadino a contribuire alla crescita della nazione. È un disbattito molto importante delle padri costituenti che io invito tutti quelli che immaginano di poter vivere sulle spalle degli altri pur potendo invece impegnarsi a rileggersi per capire come si è buoni cittadini obbedendo alle indicazioni della nostra Carta Costituzionale. In ultimo non c'è un criterio di scelta dei commissari legati al consenso. I commissari che immagino si individueranno, io non ho fatto parte di altri governi, diciamo non ho mai partecipato alle indicazioni di commissari, non c'è ad oggi un dibattito all'interno del governo e io devo dire dal mio punto di vista non sono uno dei protagonisti del dibattito sull'argomento seppure ci fosse quindi non lo conoscerei. Noi dovremmo scegliere, è ovvio, per l'Italia il commissario più idoneo e il commissario più capace di difendere gli interessi nazionali anche in luoghi che in Europa ci permettano per delega di essere incisivi sulla nostra economia. Quello che non va fatto è sistemare qualche amico che ha smesso di fare un'altra cosa e mandarlo in Europa a occupare una poltrona. Non è credo l'impostazione giusta e non è stata nemmeno premiante per l'Italia. L'Italia su tutti i dati di questi anni nel condominio Europa è stata penalizzata dalla incapacità anche lì di avere una visione strategica sui commissario e sui ruoli degli italiani all'interno della burocrazia europea. Sono disponibile sempre a fare tutto, non ho alcuna intenzione di andare a Bruxelles. Se si deciderà che io rimanga a fare il ministro lo continuerò a fare, se si deciderà che devo tornare per questi anni a fare parlamentare lo farò volentieri. Ho 35 anni di attività politica alle spalle, ho fatto molte cose, alcune bene, alcune meno bene, ma è un giudizio che non spetta per fortuna, devo dire, ai commentatori televisivi, ma diciamo ai cittadini ogni volta che vanno a votare.